Amici dello sportello del cittadino ci troviamo a Taranto in via Cesare Battisti e dobbiamo così farvi comprendere e mostrarvi come effettivamente il cordolo, la installazione del cordolo circa un anno fa si è rivelata un fallimento completo, un aborto e sarebbe il caso di rimuoverlo. Per una ragione molto semplice, il cordolo qui in via Cesare Battisti come in altre strade è nato con la finalità di evitare di far sì che la corsia preferenziale venisse preservata perché molte auto, molti maleducati, automobilisti privi di senso civico transitavano tranquillamente sulla corsia preferenziale. Allora si è detto mettiamo il cordolo di modo che il cittadino transita sulla sua corsia e quindi non va a invadere quella relativa al transito preferenziale, taxi, ambulanze, bus e quant'altro. In linea di principio il discorso ha un suo perché ovviamente, ha una sua ragione, però nella pratica si è rivelato un fallimento. Perché? Perché le macchine continuano impunemente a parcheggiare in doppia fila e quindi si crea un assurdo. Cioè che la corsia per le auto, la corsia di transito normale, viene a restringersi alla luce appunto come vedete qui per esempio delle macchine in doppia fila. Per cui la macchina che sta transitando deve veramente fare i salti mortali per non colpire la macchina in doppia fila e molte volte, come vedete qui, è costretta, si vede costretta a saltare il cordolo anche se di poco e quindi andando comunque nell'altra corsia. Lo vedete. Il problema è uno solo, comandante dei vigili. Qui non è questione di cordolo sì, cordolo no. Qui è questione che i vigili devono sgambettare. 24 ore su 24. Ecco, ci dice un amico, 24 ore su 24. I vigili devono presidiare queste zone e ovviamente fare le multe, altrimenti il problema non si risolve. Perché ora, oltre al danno alla befa, abbiamo messo il cordolo e il transito è diventato più incasinato. Passatemi questa espressione di prima. Quando invece, se noi avessimo ogni giorno, nelle ore calde, i vigili sistematicamente pronti a fare multe, il cittadino, l'automobilista scorretto, come si suol dire a Taranto, metterebbe il sentimento, cioè rifletterebbe e sapendo di essere sanzionato, di essere multato, non sarebbe più così indisciplinato. Vedete, torno a ripetere, guardate questa macchina come deve transitare. Il problema non si è risolto. Il vero problema sono le doppie file e le doppie file in questo modo creano ulteriori problemi. Guardate, non ne parliamo poi quando una macchina esce dal parcheggio, si crea un guazzabuglio di quelli mai visti. E allora, sguinzagliamo tra virgolette i vigili, mettiamoli a girare per la città. È stato tolto a Via Liguria il cordolo, benissimo, facciamo lo stesso nelle altre strade. Ma, ripeto, qui non si tratta di favorire la doppia fila o di favorire l'abusivismo, assolutamente. Intendiamoci, non è che voglio, intendo, difendere la cultura dell'illegalità, ci mancherebbe altro di chi vuole fare il furbetto e va ad invadere l'altra corsia. No, io voglio proprio far sì che la corsia destinata agli automobilisti, la corsia ordinaria, sia utilizzabile. In questo caso è utilizzabile a metà o comunque in maniera davvero difficile. E allora, signor comandante, assessore alla Polizia Municipale Cataldino, diamoci da fare, togliamo, facciamo sì che questo cordolo venga rimosso quanto prima, come è avvenuto in Via Liguria, e i vigili, li voglio vedere girare, girare, girare. Vedete, spesso vedo vigili, vigilesse, così, collocate davanti al ponte girevole. È una collocazione che serve a poco. Mandiamo i vigili nelle zone calde, mandiamole nella città vecchia, dove si scorazza in Via Duomo, mandiamole a Paolo VI, mandiamole alla Salinella, mandiamole qui in Via Cesare Battisti. Guardate, questi sono i risultati degli scienziati che hanno messo il cordolo. Capito?